Le cose che un venditore senza agenzia deve sapere prima di mettere in vendita il proprio immobile sono poche e semplici. 1. Fa ridigere da un notaio una relazione che attessi che sull'immobile non ci siano gravami. 2. Fa ridigere da un tecnico abilitato una relazione che attessi che l'immobile è apposto dal punto di vista urbanistico. 3. Prequalificare gli eventuali acquirenti. Quindi fare domande già al telefono a chi si riceverà a casa. Capire se possono acquistare subito o se devono vendere prima il loro immobile. Insomma chiedere se ti piacerà la casa che verrai a vedere ce l'hai i soldi per comprarla subito? Se la risposta è sì siamo a posto. Se la risposta è no di certo non te li diamo noi ma sappiamo come farteli avere.